Il diario della melevisione Sali ed esci, esci e sali, vola velo con le ali, sali sapore, vola vapore, fammi gustare il tuo gusto di fiore, fammi vedere il tuo fiore di fumo, fammi sentire il profumo. Che buono! Beh, adesso ti saluto caro amico genio infuso, ancora non è il tuo momento, ci vediamo dopo, ciao! Ciao amico diario! Invece è arrivato il tuo turno, ma non essere geloso, adesso ti dico la tua filastrocca. Caro diario che mi ascolti, i tuoi fogli sono molti, ma i miei giorni sono tanti e i ricordi sono canti. Li racconto, li rivivo, li ricordo se li scrivo e se non ricordo più, li racconti tu. Ehi, ciao! Come stai? Bene, grazie. Io sono pronto per leggere il diario. Ogni giorno un problema da risolvere e una domanda a cui rispondere. Fiore di, qual è la lampada di Aladino? Quella nuova o quella vecchia? Amore di, a quali funghetti dei boschi fatati bisogna stare molto attenti? Lampone di, chi prende molto sole, ne toglie un po' agli altri? E pigne di, qual è il segreto della voce che sa farsi obbedire da tutti? E poi pesce di oggi. Oggi e adesso è il giorno e l'orario per fare l'infuso e leggere il diario. Beh, allora cominciamo. Fiore di. Fiore di, indici del mese profumoso, povero Ronfo. Il celebre Aladino, in partenza per un viaggio nel deserto, ha lasciato in custodia la sua preziosa lampada proprio a lui. Strega Varana è venuta a saperlo e ha deciso di rubargliela. Però non sa come sia fatta perché il suo libro nero non c'è neanche un disegno, insomma. Se contiene un genio potente, ragiona tra sé, sarà una lampada preziosa. Mentre invece è vecchia ammaccata. Per fortuna Baliabea, passando vicino al suo antro, l'ha sentita ragionare così ed è proprio a lei che viene l'idea giusta. Con Ronfo e la fata, riveste un vecchio bollitore da buttare via con ritagli colorati. Sembrerà un oggetto prezioso e la strega crederà che la celebre lampada sia quella. Il bollitore truccato viene nascosto, ma in modo che non sia difficile trovarlo. E infatti, strega Varana lo trova. Vediamo un po' come funziona questa lampada. Ecco qua. Mettere olio nella lampada e scaldare leggermente. Poi, sfregare con energia e pronunciare la formula. Questa scena non me la perderei per tutto l'oro del mondo. Genio della lampada, esci e obbedisci. Obbedisci, te l'ordino. Forse devo sfregare ancora un po'. Non succede niente. Forse devo aggiungere ancora un po' d'acqua e farla scaldare un po' di più. Mi raccaldo subito io la tua acqua, frega Varana, con una piccola formuletta. Limpida, limpida, chiara, acqua sorgente, diventa subito acqua bollente. Riesce le budelle. Ma che succede? Genio, esci e obbedisci. Ciao, strega Varana. È già l'ora del tè? L'ora del tè? Ma cosa vai blatterando, fata? Ma no, io volevo semplicemente una piccola tazza di tisana. Te ne sei fatta un bollitore. Sparisci subito dalla mia vista o ti riduco in un mucchietto di cenere. Ho da fare. Vado, vado. Scusami, eh. Fata in piccola. Genio, esci e obbedisci. Se non esci immediatamente, ti faccio un bel nodo alla barba e ti attacco al soffitto come una ragnatela. Momento. Cos'è che ha detto quella scioccafata? Un bollitore. Io ho visto un coso simile nella cucina di Cuoco Basilio. Questa non è la lampada di Aladino, Vescire e Baudela. È un bollitore e mi hanno ingannata. Sali ed esci. Esci e sali. Erbe aromatiche e officinali. Foglie e foglietti. Folle o folletti. Tutto dipende da quante ne metti. Beh, adesso aspetta altri sei pignuti. E poi torno. E ora, tocca di nuovo a te. Seconda giornata, more di. Alla reggia era annunciata una grande cena a base di funghi. Povero Cuoco Basilio. Non è certo facile trovare funghi freschi in questa stagione. Per fortuna, tutti gli amici si sono offerti di dargli una mano e ne hanno raccolto un bel cesto. Perfino strega Varana ha portato i suoi. Ma di nascosto. Ed erano funghi, diciamo, un po' speciali. Ah, Cuoco Basilio. Questa volta hai cucinato un sugo all'altezza della tua fama. Adesso bisogna assaggiarlo. Buono. Ma ci manca ancora un pizzico di noce moscata. Strega Varana, esci subito dalla mia cucina. Che cosa stai facendo qui? Buongiorno, Cuoco Basilio. Sì, lo so. Sei ancora arrabbiato con me per quello stupido scherzo del pepe rosa delle isole pizzicherine. E lo chiami scherzo? Per colpa tua, ancora un po' e sono finito dentro a un libro di cucina. Era un incantesimo che durava solo pochi pignuti. Sì, se non fosse che in quei pochi pignuti, io avrei dovuto servire la cena al re di gastronomia. Sì, è vero, ma mi hanno raccontato che poi è andato tutto benissimo e la cosa non mi meraviglia. So che la tua cucina non teme i confronti. Adesso parla, che cosa sei venuta a fare qui? Ho saputo che Reginotta Gardenia ti ha chiesto di prepararle una cena a base di funghi. Bel problema trovare funghi in questa stagione. E allora? Ho pensato che avrei potuto darti una mano. È così per farmi perdonare per l'altra volta. E grazie, strega Varana, ma veramente non ho bisogno del tuo aiuto questa volta. Sì, me lo sono meritato. D'altra parte questo è il destino di noi streghe. Nessuno è disposto a perdonare nulla ad una strega. Beh, ciao Cuoco Basilio e scusami ancora. Ciao strega Varana. Mmm, viscere Pudella, cos'è questo profumino? Si tratta di una ricetta di mia invenzione. È la salsina di tartufi e noci con cui servirò il mio simposio di funghi tifolati alla salsina di tartufi e noci. Cuoco Basilio, sei un vero artista. Beh, ciao. Eh, strega Varana? Sì? Eh, mi dispiace per prima, però guarda che... No, non preoccuparti, d'altra parte hai ragione. Chi può fidarsi di una strega? Cuoco Basilio, strega Varana, cosa ci fai qui? Ciao Fatalina. Sono solo venuta a vedere se Cuoco Basilio aveva bisogno di aiuto. Io non credo che Cuoco Basilio abbia bisogno del tuo aiuto. Beh, insomma Fatalina... Non preoccuparti Cuoco Basilio, visto che la mia presenza qui non è gradita, me ne vado. Ciao Fatalina. Cuoco Basilio, Nina. Ciao strega Varana. Io non mi fido affatto di quella stregaccia. Non si sarà mica avvicinata ai funghi, vero? Ma no, non credo. Sarà meglio controllare. Mi sembra tutto a posto. Ma no, strega Varana, questa volta è venuta soltanto per lo film in suo aiuto. Io ho un certo intuito per queste cose. E poi non è giusto prendersela sempre con lei. Cuoco Basilio, che ti succede? Lascia stare i funghi, sono miei. Eh? Miei, miei! Fatalina ha assaggiato il sughetto e poi gli è venuta una faccia strana. E non toccare quel cestino, perché è mio. È tuo? No, guarda che questo cestino è mio. E anche le bretelle sono mie. Ma... Sono mie! Mio, mie... Ma sei impazzito? Qui ci deve essere lo zampino di strega Varana. Deve aver messo qualcosa nel sughetto. Vado subito ad assaggiare. Noci, tartufo e funghetti mio mio. Ecco che cosa aveva messo nel sughetto. Quelle bretelle sono mie, questo sugo è mio, è tutto mio qui, mio. Fatalina, non puoi fare nulla per guarirlo. Io potrei provarci, ma non sono sicura di riuscirci. Contro i funghetti mio mio può fare qualcosa solo strega Varana. Mi è venuta un'idea. Cuoco Basilio, è davvero bella la tua cucina, sai? Sì, questa cucina è bella, è anche mia, è tutto mio qui. Sì, 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 certo. Però è un peccato questo odore di formaggio. Secondo me dovresti trovare un altro luogo dove fa stagionare il formaggio. Non è vero, Fatalina? Eh, sì. Che poi, guarda caso, io, sì, ho in mente un posto molto fresco, un po' lontano da qua. Insomma, dove fa stagionare il formaggio. È mio, è mio, quel posto è mio, lo voglio io, è mio. Sì, certo, stai calmo. Portami in quel posto, perché è mio. Ci andiamo, ve lo Fatalina? Eh, certo, sì, sì, ho capito benissimo. Ecco. È tutto mio. È tutto tuo. Eh, sì, ho capito qual è il trucco segreto per disfare i sortileggi della strega. Non combatterli, ma usarli contro di lei. Come le arti marziali dei guerrieri dei regni di fiaba dell'est. Usare le mosse dell'avversario per sbilanciarlo e farlo cadere. Dai, diario, raccontaci come. I tre amici si avviarono verso l'antro della strega, che intanto pregustava la sua vittoria. Che piano perfetto. Sarei proprio curiosa di andare anch'io questa sera al castello di Re Quercia per il ricevimento. Chissà cosa succederà quando tutti avranno mangiato l'ottimo simposio di funghi trifolati di cuoco basilio. Eh, sì. Il simposio di funghi trifolati alla salsa di noce e tartufi. Con la mia piccola giunta di polvere tritata di funghetti mio mio. Mi sembra già di vedervi. I gentili e generosi abitanti del fantabosco. Sotto l'effetto dei funghetti mio mio. È mio. No, è mio. No, è mio. Sei strega Varana. Ma come? Non so, inventati qualcosa. Ciao strega Varana. Cosa sei venuta a fare da queste parti? Volevo dirti, ecco, che mi dispiace per come ti ha trattato Fatalina. Ti dispiace? Sì, in fondo tu eri andata a vedere cuoco basilio per sapere se lui aveva bisogno di qualcosa. E quindi noi streghe siamo abituati a queste ingiustizie. Adesso però devo andare. Ciao. No! Aspetta un momento. Cosa? Ti volevo dire, ti va di vendere questa sera il ricevimento dal castello di Requercia? Questa è una buona idea. Sì, credo proprio che farò un salto. D'accordo, grazie Nina. Arrivederci. È mio. Questo è mio. Anche questo è mio. Prendo anche questo. È mio. Tutto l'altro adesso è mio. È mio, è tutto mio l'altro. È mio, prendo anche questo. Vieni giù le zampacce dalle mie cose. È anche questo. Cosa stai facendo? Questo è mio. È mio, è tutto mio qui dentro. Faccio posto. Giù le zampacce dalle mie cose. I miei formaggi. I tuoi formaggi? È tutto mio. Ma io ti incenerisco. È qui, è mio. È anche questo. Si può sapere cosa stai facendo? Anche questo è mio. Esci subito fuori di qui, altrimenti io. È mio, è tutto mio questo. Non gli importa nulla di essere incenerito. Anche questo è mio. Deve essere l'effetto dei funghetti mio mio. Anche questo. L'unica cosa che gli importa è di impossessarsi di tutto quello che vede. Prendo anche questo. Anche questo è mio. C'è solo una cosa da fare. È tutto mio qui dentro. È mio. Gira la ruota. Vola la rima. Tutto ritorni come era prima. Sangue rosso. Bianco osso. Voglio, comando e posso. Ma... Ma... Ma io... Esci subito fuori di qui. Fuori! Io! Ah, ci pigna. Questa settimana sono proprio mancato tanto. Sì, Fiore di, mentre Ronfo custodiva la lampada di Aladino, io ero andato a Bosco Vicino a controllare se non ci fossero state delle intrusioni umane. More di, invece, mentre strega aveva portato i funghetti al castello per la cena, io ero proprio al castello a preparare le bibite per quella cena. E il lampone di, invece, sono stato a città laggiù a cercare gli ingredienti per le bibite, quelli che si trovano soltanto lì da voi, insomma. Beh, proprio quel giorno, Fatalina se ne stava in riva all'aghetto a prendere il sole beata. Per gli alti salti di Re Salmone, che beatitudine! Ah, che senso di felicità mi fanno provare questi tiepidi raggi di sole di pigna vera! Oh, potrei stare qua tutto il giorno a godermi il sole e non fare niente di niente. Ecco, forse potrei leggere una filastrocca. Sole che oggi sei appena spuntato, tutta la notte dove sei stato? Sole che oggi tramonterai, dietro quei monti laggiù dove vai? Dall'altra parte c'è un continente. Giri sotto a svegliare la gente. Il loro giorno è quando dormo io, però domani riportami il mio. Mamma Sardina, ma chi è? Ah, il tirapiedi di Grifo Malvento, dovevo immaginarmi. No, non il suo tirapiedi. Il suo esattore delle tasse per l'esattezza, mia graziosa fatica. Beh, insomma, esattore o tirapiedi, mi hai fatto prendere un colpo! Sono veramente contrito, non era mia intenzione spaventarti. Comunque, che cosa stavi facendo? Stavo qua a godermi i primi raggi di sole di pigna vera. Proprio come pensavo e... quanto sole hai preso? Come quanto sole ho preso? Tutto quello che posso! Appena ho un minuto, io vengo qua e mi godo un po' di sole. Sospettavo che fosse così. Purtroppo questa è una gioia che a me e al mio padrone, il barone Grifo Malvento, è negata. Ma come no? È il sole di tutti. Hai mai visto il picco Malvento, Fatalina? Mmm, veramente no. Beh, sì, insomma, da molto lontano. Allora ti sarai resa conto che sul picco Malvento non batte mai il sole. Ma sai che hai proprio ragione. Il picco Malvento è sempre avvolto dalle nuvole. A volte piove a dirotto, con lampi violacei che squarciano il cielo e... terribili tuoni che feriscono le orecchie. Ma il sole no. Quello non batte mai sulla nostra dimora. Oh, Belmi, mi dispiace tanto. Il sole è una delle gioie della vita. È per questo che il mio padrone, il barone Grifo Malvento, dopo essersi consultato con alcuni sapientissimi sapienti, ha deciso di chiedere un piccolo risarcimento. Che tipo di risarcimento? Una tassa. Una tassa... sul sole. Il sole sorge e all'alba le ombre sono lunghissime. Poi il sole va su e la mattina le ombre sono un po' più corte. E poi a mezzogiorno il sole è a picco e le ombre sono quasi invisibili. Hai visto bene? Hai capito bene? Ma stai a sentire che furbata che ha avuto quella mente fina di principe Giglio. Vermio minacciava di far arrestare quelli che non pagavano questa assurda tassa sul sole. E il principe ha detto, le nostre ombre sono tanto più grandi quanto più sole prendiamo. Cioè, togliamo al barone. Giusto? Allora ognuno pagherà per quanto è grande la sua ombra. Il pagamento avverrà oggi a mezzogiorno in punto. Vermio ha accettato. E quando l'indomani a mezzogiorno si sono incontrati per misurare le ombre, hanno trovato che erano quasi uguali a zero. E Vermio, rodendosi le mani per la rabbia, ha dovuto rassegnarsi a incassare zero tasse. E siamo arrivati a Pignedì! Finalmente! Pignedì c'ero anche io. Sì, perché è cominciato tutto quando io avevo bisogno di un po' di miele. Sì, per preparare il mio blu mele, sai. E devi sapere che il miele si può prendere dall'alveare delle api. Ma ci sono delle regole, tre regole. Con l'esattezza te le leggo. La prima va chiesta, va chiesto con grande gentilezza. La seconda regola, bisogna chiederne poco per volta. E la terza regola, bisogna sempre offrire qualcosa in cambio. Infatti, in cambio io avevo preparato per le api un sacchetto di fiori di camomilla. Ecco. Ah, eccolo qua. Le fiori di camomilla. Sono profumatissimi. Beh, Ronfo, che conosce la lingua delle api, si è offerto di portare lui il mio regalo alle api, all'alveare. Ma mentre stava per consegnarlo, è finito nella rete del solito lupo Lucio. Le api, amiche di Ronfo, sono a corse per salvarlo. E il lupo è dovuto fuggire a zampe levate, portandosi via il sacchetto di fiori di camomilla. Cosa abbiamo qua? E' il sacchetto di Ronfo. Cosa ci sarà dentro? Una bella merenda preparata da lonna Lanzfirogna. Ai, 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 ai. Sì, lupo Lucio, sì. Finalmente la tua sfortuna sta per andarsene. Presto, fammi vedere cosa c'è dentro. Fiori? Fiori di camomilla. Lupo Lucio, sì. Le stagioni se ne vanno. I giorni cambiano. Il sole nasce e poi tramonta. E la tua sfortuna? No, e no. Lei no, è sempre qui. Vicino a me. Sì. Ah, che sfortuna. Però, il profumo non è cattivo. È lupo Lucio, sei un lupo delle fiabe, non puoi mangiare questa cosa qui, eh, però. Ma insomma. Ma che cos'ha la mia voce che non va? Quarta, quarta. Principessa Odessa. Ma perché quando io parlo nessuno presta attenzione alla mia voce? E come farò a diventare un giorno regina se quando parlo nessuno mi ascolta? Come faranno i miei sudditi? Perché si lamenta, eh, della sua voce? Lupo Lucio. Sì. Un lupo fiero delle fiabe può diventare pelle ossa, ma non muore certo di fame. Ciao, principessa Odessa. Ciao, lupo Lucio. Eh, sai, scusami, io passavo di qua, ecco. E ho sentito, insomma, che ti stavi lamentando per la tua voce, no? E allora ho pensato che potrei aiutarti. Non so se faccio bene. Beh, in effetti, in effetti non faccio bene. E allora sai cosa ti dico? Vabbè, vado via, ciao, eh. No, aspetta, lupo Lucio. Sì? Eh, che cosa hai sentito? Eh, cosa ho sentito? Eh, ecco. Niente, sentivo che ti stavi lamentando della tua voce, no? Eh, sì, la voce con cui si dà gli ordini. Eh, vabbè, ma non importa, ciao, eh. No, aspetta, lupo Lucio. Sì? Eh, tu che cosa ne sai delle voci con cui si danno gli ordini? Cosa? Cosa? Cosa ne so? Ah, cosa ne so? Ah, cosa ne so? Ah, ah, ma guarda, guarda che io sono un feroce lupo delle fiabe. Ah, ciao, cosa ne so? E il feroce lupo delle fiabe sa tutto quello che deve sapere su una voce che dà gli ordini. E siccome la cosa da sapere è una sola, io la so. Ah, ciao. Allora parla. Non so se posso, ciao. No, aspetta, lupo Lucio. Adesso tu hai detto che sapevi qualcosa e quindi dimmelo, di che cosa si tratta? È un segreto. Un segreto? Ti darò un euroliro d'oro in cambio del tuo segreto. Eh, vabbè. Ebbene, ma è un segreto. È un segreto segretissimo. È un segreto. È che i capi branco si tramandano di padre in figlio da generazioni in generazioni. Eh, non so se posso, ciao. Lupo Lucio? Sì. Ti darò due eurolilleri d'oro, non un in più. E vabbè, ma... Ma... È il segreto delle api regine. E sai, per cui ogni ronzio diventa un ordine. Non so se posso, ciao. Lupo Lucio? Sì. Tre eurolilleri d'oro. Con questi ci potrai comprare salamini, salsicce, anche un maialetto se vuoi. Vabbè, sì, sì. Lo faccio solo perché ti ho visto in difficoltà, eh. Un buon momento. Prima il segreto dei lupi capobranco. E volevo sapere, è uguale a quello del segreto della perigina? Ah, vabbè, sì. Prima il segreto e poi gli eurolilleri, eh. Appunto, prima il segreto. Camomilla! Fiore di camomilla? Sì, fiore di camomilla. Tu devi sapere che un capobranco, quando si accorge che gli altri lupi non rispondono prontamente ai suoi ordini, cosa fa? Cosa fa? Si fa una bella scorpacciata di camomilla. Ma che storia è questa? Ho faccio qui. Ho faccio qui. Oh, ma che storia? Che storia? Guardate che è la verità. È il segreto delle api regine, per cui ogni ronzio diventa un ordine da eseguire. Ah, sì, sì, sì. Non è che mi stai imbrogliando, lupoluccio? Cosa fa? 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 Ecco, guarda, per quei tuoi tre euro lilleri, e io ho raccolto oggi per caso casualmente un po' di camomilla. Ti lascio il sacchetto. Sì. Ah, sì? Oh, guarda che mi sono spezzato la schiena, la coglia. Ci ho passato tutto il giorno. Vabbè, adesso io devo andare, c'ho tante cose da fare. Ciao, principe sedessa. Ciao. Lupoluccio? Sì? Si devono mangiare crudi? Allora, questo... Crudi, crudi, eh, crudi, sì, crudi. Fiore di camomilla, segreto dell'aperigina, il segreto del capobranco. A me questa storia non comincia proprio per niente. Ecco qua. E così, anche questa settimana è finita. Ma vediamo se ti ricordi tutto, eh. Prova a rispondere a queste domande. Allora. Fiore di, ehm, Fiore di, qual era la lampada di Aladino? Quella bella e colorata o quella vecchia e ammaccata? Bravo, quella vecchia. More di, more di, a quali funghetti di bosco magico bisogna stare attenti? Esatto, ai funghetti mio mio. Lampone di, chi prende molto sole ne toglie un po' agli altri? No, di sole ce n'è per tutti. E anche se, boh, speriamo che gli umani non lo inquinino troppo con il loro gas. E Pignedì. Pignedì, qual è il genio infuso che ha il vapore che esce dalla tazza e dà il potere magico della clorofilla? La camomilla. Beh, adesso ti devo salutare perché è arrivato il momento di bere la camomilla. Sì, forse, forse a te non piace tanto la camomilla, ma hai sentito quante filastrocche che ho letto oggi? Eh, quelle filastrocche di la casa le potrai leggere tutte nel sito della melevisione. Le potrai copiare e stai tranquillo che leggendo quelle la camomilla andrà giù molto meglio. Avete capito mamme? Capito nonne? Capito zie? Ve l'assicura Milo Cotogno, eh? Beh, ti saluto adesso. Ci vediamo presto. Io ti aspetto sempre qui. Ciao amico. Ciao. www.acipigna, non mi ricordo come si fa. Che ti succede Milo? A città laggiù mi hanno detto che per entrare nel fantabosco e trovare le filastrocche perdute, le canzoni che non conosco, i giochi e le storie, bisogna digitare una parola magica. Ma io non so qual è. La parola magica è www.melevisione.rai.it È facile, no? Ma funziona! www.melevisione.rai.it Prova anche tu!